Iniziamo il nuovo binario... Aperto! Nuovi binari da percorrere... Con coraggio salta e supera il ramo! Nuovi trasporti e nuovi guai per il trenino Thomas e per i suoi amici. Tutti in carrozza! Si parte verso nuove avventure! Vediamo cosa è il progetto! Non perdere i nuovi episodi del trenino Thomas! Grandi avventure insieme! Da lunedì prossimo, il pomeriggio alle due e mezza, su Cartoonito e sulla Cartoonito app!